Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su PlanetWin365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su PlanetWin365.news. I'm Mo Rocca and I'm excited to announce season four of my podcast Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets, all that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca, wherever you get your podcasts. Interessi zero e rottamazione. E dopo un anno puoi tenerla o sostituirla. Anticipo 1600€, 11 rate da 139€ e rata finale 12.058€. Tanzero TAIG 381. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 dicembre. Bello, molto bello. Sicuramente un notevole 64 bars. Riflettevo però, qual è la differenza tra i 64 bars e il Real Talk come format, diciamo? Sono molto simili, ma il Real Talk ha come ospiti ragazzi che stanno emergendo e che quindi hanno voglia di dimostrare. E si attacca, diciamo, questo pensiero alla frase, cioè parte questo pensiero dalla sua frase, quella che dice L'idea di perdere frena solo chi ha vinto. Perché quando non hai nulla da perdere, è lì che sei un fiume in piena di roba, di merda. Non te ne frega un cazzo, sei puro istinto. E quella roba lì, per un format di esercizio di stile hip-hop, credo sia veramente il top del top. Ora, con questo antefatto, diciamo che mi aspetto di vedere un Massimo Pericolo 3.0 a breve e già col Signore del Bosco ci ha scosso, ecco. Perché è dall'abitudine, dalla quotidianità che poi nasce la vera essenza artistica. Il primo disco, appunto, è una roba che dicevano, appunto, ci hai messo tutta la vita a scriverlo. Allora, non ricordo perfettamente di chi era questa cheat. Quindi magari è il disco della vita, in cui racconti attraverso la tematica che più ti ha toccato, esempio di Massimo Pericolo, diciamo, tutto il carcere, la voglia di emergere, però ci metti tutto te stesso, senza freni. E quindi, in qualche modo, è un altro sport rispetto a un secondo disco, che è il disco un po' della condanna per molti artisti, perché hai sempre la sensazione di perdere qualcosa. Stai arrivando ad essere quello che sei, non lo sei ancora, e vivi anche il dubbio, vivi il post primo disco, che può essere un post successo, appunto. E quindi arriva, no, quello più autentico, diciamo, il terzo e il quarto disco, no? Mi viene in mente, appunto, la carriera di Fibra, che viene citato all'inizio. Ma tutti immagini, se da un momento all'altro scattassero le indagini, quindi scattano le indagini di Fibra, che viene citata all'inizio. Vedendo la sua carriera abbiamo Tradimento, Bugiardo, che sono stati due dischi, diciamo, in cui c'è stata la grande affermazione. Poi abbiamo Chi vuole essere Fabri Fibra, Guerra e Pace, Il bisogno un attimo di riflettere, i film in bianco e nero che l'hanno ispirato. Poi abbiamo il disco più pop, diciamo, quello dove anche un po' si identifica, però, Fibra. Ovvero contro cultura, cioè in quella fase lì, musicalmente parlando, e poi la necessità di stravolgere tutto, da un certo punto di vista, fino a un disco come l'ultimo, in cui è un po' un racconto del suo background, rimesso in rima, ed insomma ogni fase dell'artista, poi l'artista la interpreta in un certo modo. Massimo Pericolo è in attesa del suo terzo disco, starà lavorando. La strumentale è molto bella, però non mi rimane, non mi ricordo, cioè mi sono concentrato su Massimo Pericolo. E la cosa forte sua, come tutti sappiamo, non è tanto il rapparo. Il rappato comunque è forte, è bravo, ha stile, ha un bel timbro di voce, quindi comunque va bene. Però non è, diciamo, quel mattatore lui. Lui è fortissimo perché ha delle liriche nascoste veramente di qualità, ti dà delle frecciate di vita pura, di verità totale. Ad esempio in frasi come Meglio il mio amico tossico, questa amicizia tossica, che sono frasi che butta lì, passano inosservate, non colpirai mai per primo e colpisci sempre per ultimo, che te le butta lì e in qualche modo ti arrivano. Però, ecco, se poi andiamo a prendere la combination bet, non è che, diciamo, la sua skills è il super rappato. Ha un bel tono di voce, diciamo. Io non rappo, mi sollevo dal suolo, a un certo punto, ha citato Gue, cioè lui dice io non rappo, dice qualcos'altro, è una citazione di Gue con Canede, il ragazzo d'oro, quindi gli ho beccato un po' le cheat, volete dire, le hanno messe appositamente, e devo dire che Massimo Pericolo io lo considero veramente uno dei più forti della scena da quando è emerso, diciamo, secondo me ha spaccato un po', e adesso semplicemente sta trasformando il suo talento in un mestiere, quando si racconta intimamente è molto più forte, diciamo, arriva. Quando fa l'esercizio di stile comunque lo sa fare, ovviamente non, magari, non ti brilla più come brillava nei primi featuring che fece, me ne ricordo uno con Cicoria, o appunto la strofa A con Mara, cioè in quel momento sapeva tanto di nuovo questo suo stile, e tutti ne volevano un pezzo, volevano un frammento di lui, della sua anima, e quindi quella roba lì fa sì che tu brilli particolarmente, magari vieni percepito così. Adesso invece c'è proprio il discorso del mestiere, cioè lui è uno che ha una fanbase enorme, è uno che piace, spacca, piace il suo brand, che è se stesso, diciamo, e lo continua a portare avanti sotto forma di... si evolve, si evolve questo brand che è lui, Massimo Pericolo, e quindi di conseguenza un attimo, diciamo che a seconda anche di ciò che racconta che adesso fa la differenza, quindi se lui racconta un qualcosa, uno storytelling pazzesco, allora è lì che può sorprendere. E in questo caso mi è piaciuto, però ecco, diciamo è lui, non c'è stata qualche perla che mi ha colpito particolarmente, sicuramente la parte più intima è quando ha iniziato a giocare un po' con la voce, con l'autotune, c'è comunque una fase un po' costruita, stizzita, perché quando inizia a... cioè ci sono due modi di attaccare i rapperini, no così li chiamano, quindi dice che cazzo mi fai quello che spara che non ti si addice neanche, c'è quello lì che lo fa del tipo sto emergendo appunto, perché è sempre lì il discorso, lui chiude il 64 bars con una frase specifica apposta, sempre lì il discorso, quando sta emergendo che è veramente del tipo non ti vedo, e poi c'è l'esempio lui in questo caso che ha parlato in un modo del tipo ma va, fa culo, però mi dai fastidio, e questo è il discorso, cioè io vorrei che Massimo Pericolo prendesse un po' tutto il suo concept interiore, lo mettesse dietro di sé, lo portasse dietro e tornasse a raccontarci, diciamo, ancora più in profondità, perché appunto quando si immerge un po', poi torna sempre in superficie, lo vedo come se si gonfiasse, passatemi questa metafora, perché è esattamente così il mio pensiero al riguardo, quindi parliamo di uno dei più forti, che però insomma è come Cristiano Ronaldo adesso, comunque ti fa i gol, comunque ti fa la tripletta, lo United però non sta in Champions, non è più il campione che ti decide la competizione, è molto semplice, quindi vediamo, che non vuol dire che deve fare il disco che poi arriva a tutti, che deve farti la hit commerciale, non sto parlando di vendite, sto parlando di qualità artistica, perché il suo primo disco ragazzi, qualità su qualità.